Qual è lo stato dell'arte delle cure palliative pediatriche in Italia? Diciamo che ancora non è completamente soddisfacente direi perché ci sono ancora alcune regioni che non hanno nemmeno deliberato ma rispetto a un po' di anni fa diciamo che la situazione è assolutamente migliorata. Infatti adesso abbiamo circa 13 regioni dove già è stata deliberata ed è attiva la rete di cure palliative specifica per i bambini e in alcune ci sono già degli hospice pediatrici dedicati. Quanti sono i bambini in Italia che necessiterebbero di cure palliative e quanti attualmente riescono ad accedere a questo servizio? Allora guardi sono 30 mila i bambini che hanno bisogno ogni anno di accedere a cure palliative e al momento un po' meno del 10 per cento riesce ad accedervi. Cosa vuol dire? Vuol dire non avere qualità di vita e questa non qualità di vita è sia per il bambino ma per la famiglia. Allora diciamo che non si può guarire la malattia si può curare il bambino e la famiglia tutto quanto quello che sono i sintomi disturbanti che possono essere sì assolutamente sintomi clinici diciamo così ma anche quelli psicologici quelli neurologici del sonno tutti queste difficoltà del bambino vengono prese in esame e a tutte queste difficoltà del bambino a questi bisogni del bambino viene data risposta. Ci sono bambini consideri che a cui viene diagnosticata la malattia al momento della nascita e che però possono vivere per parecchi anni e fare anche una vita molto normale se seguiti in maniera corretta dalle cure palliative pediatriche. La gente deve capire che le cure palliative sia quelle dell'adulto ma in modo specifico quelle pediatriche parlano di qualità di vita non parlano di morte perché se lei pensa che soltanto un 15 per cento di bambini sono bambini oncologici tutti gli altri sono bambini che hanno altre malattie quindi possono vivere per tantissimo tempo.